E' terminata l'edizione 2014 di Fritto Misto. A chiudere la decima edizione della Kermess, che anche quest'anno ha fatto il pieno di visitatori, è stato Enrico Recanati, lo chef del ristorante Andrina di Loreto, noto per i succulenti specialità di carne. Il parafritto si è confermato leader nei cuori nelle papille gustative dei visitatori, dove si sono potuti assaporare le tante squisitezze, i gusti extra regionali e specialità internazionali. Come sta andando questa manifestazione? Siete soddisfatti? Le persone sono venute e hanno apprezzato le vostre specialità? Beh sì, diciamo abbastanza. Ci sono state giornate con picchi alti e giornate con picchi bassi, comunque non ci lamentiamo. Il tempo, nonostante sia stato sfavorevole, però ha visto comunque abbastanza presenza. Sì, sì, sì. Comunque ci sono molti turisti, vengono da tutte le parti d'Italia, quindi non ci lamentiamo assolutamente. Sì, ogni anno migliora, andiamo molto bene. Anche quest'anno abbiamo il prodotto più venduto, siamo strafelici. Moltissimi turisti giunti in città per l'occasione. E' piaciuta Ascoli e questa manifestazione fritto misto? È la prima volta che viene qui? Al fritto misto sì, ad Ascoli è venuto già un'altra volta. Ascoli piace molto, ovviamente sì. Quali sono le cose che hai apprezzato più della città, anche della manifestazione in sé? Beh, la piazza soprattutto. Adesso poi dovremmo andare al Duomo perché era chiuso, quindi vedere le opere del Crivelli e di altri. Al Museo di Ocesano poi vedremo. E questo è molto interessante come aspetto enogastronomico che può andare bene. Le piace questa manifestazione? Come ne sembra? È molto bella, è molto interessante, mi piace la tempura e tutte le altre cose che ci sono qua. Noi non siamo di qua. Dove siete? Noi siamo di Milano. Siamo qui a San Benedetto del Trondo ed è molto bella, anche come città. Grazie a tutti.